Amici di Penetagiovani e appassionati ciclismo, ben trovati! Eccoci qua per raccontarvi quanto è successo nella gara di calcinato riservato alla categoria allievi, il memorial Fiorenzo Montanari. Lunedì di Pasqua ha calcinato per ricordare l'amico Fiorenzo Montanari. Un gruppo di amici che con l'amministrazione locale e la famiglia Montanari hanno voluto ricordare con una gara di ciclismo la sua prematura scomparsa. Il ciclismo appunto è il legame forte che ha sempre unito tutti noi con il citato Fiorenzo. Un percorso veloce anche se non completamente pianeggiante ha visto percorrere i 57 km previsti ad una media superiore ai 41 km orari. Presenti le migliori formazioni della zona. Fin dai primi chilometri non sono mancate le occasioni di mettersi in bella evidenza. Numerose le fughe con un lungo elenco di atleti che di volta in volta hanno tentato di guadagnare vantaggio sul resto della corsa. Ma gruppo molto attento a recuperare il disavanzo, per la verità mai stato particolarmente preoccupante. Passano i chilometri e mentre nelle retrovie la forte andatura produce una sostanziosa selezione naturale, in testa alla corsa un piccolo gruppetto ha saputo guadagnare una trentina di secondi di vantaggio, grazie soprattutto ad un'andatura regolare e la massima collaborazione tra i fuggitivi. Gruppo che alterna forti accelerazioni e momenti di pausa. Dopo il giro di Boa ha cominciato a recuperare terreno, davanti la fatica inizia a farsi sentire e da dietro i big presenti si lanciano in un repentino inseguimento, recuperando in breve il disavanzo. Nuova situazione in testa alla corsa, con un folto gruppetto di una decina di unità che pur non guadagnando un grande vantaggio ha saputo mantenere il resto della corsa alla dovuta distanza. Al suono della campana il gruppo transita sotto lo striscione d'arrivo con una maglia feralpi in testa a dettare l'andatura, ma i trenta secondi che lo dividono dalla testa sono ormai incolmabili. Ultimi chilometri per i fuggitivi, che si presentano senza particolari scossoni in zona traguardo, preparando lo sprint finale. Entra in testa al gruppetto sul lungo rettilineo una maglia aspiratore Otelli Carimba Iocchi, si tratta di Francesco Baruzzi. Sulla sua ruota Marco Loda, della Camignone, l'avversario più scomodo di questo inizio di stagione, che nei metri finali prende la testa della corsa, andando così a cogliere il secondo successo di questo breve avvio di stagione. Il gruppo, in zona arrivo per lo sprint di consolazione, vede imporsi Federico Saccani, in maglia a scuola ciclismo Mincio Chiese, con un ritardo di 25 secondi. Secondo giorno di Pasqua, seconda vittoria stagionale per Marco Loda. Contentissimo, sì, la seconda vittoria in due settimane, la gara è andata benissimo, sono venuto qua soprattutto per allenarmi, ma ho visto che è metà gara, sono riuscito ad andare via in un gruppetto che è arrivato all'arrivo, l'ha volato, ha dato tutto e sono riuscito a vincere. E' un gruppetto forte di parecchi velocisti? Sì, c'erano nomi molto importanti, il gruppo è sempre stato lì, non ci ha mai lasciato troppo, siamo comunque riusciti ad arrivare con un leggero margine a far la volata. Dedica? Dedico a tutta la squadra, a mia sorella Alessia e a Nico, il mio compagno di squadra, che questa settimana è caduto. Francesco, Francesco Baruzzi, un ottimo piazzamento. Sì, questo qua è già il terzo piazzamento su tre gare di questa stagione, la gara è stata movimentata fin dall'inizio, ci sono stati svarati attacchi e siamo riusciti a entrare in quello buono. A metà corsa vi abbiamo visto proprio lavorare voi dell'aspiratorio hotel? Sì, c'avevo un compagno, Alessandro Marzocchi, che ha fatto la differenza su uno strappetto e poi siamo partiti in contropiede e siamo andati via. Dopo questi podi, quando la vittoria? Speriamo arrivi il più presto possibile, settimana prossima vado a correre in Veneto, è stata una gara dura, adatta alle mie caratteristiche, quindi spero di far bene. Camignone, una fucina di campioni, dalla vostra società sono usciti veramente dei, soprattutto prima cosa bravi ragazzi e poi anche ottimi atleti. È vero, è vero che sono bravi ragazzi, la società è una società piccola, ma nello stesso tempo il vivaio coltiviamo abbastanza bene e la fortuna, perché si parla di fortuna quando l'atleta in questi anni è forte, dopo la strada è lunga, quindi siamo abbastanza fortunati, lavoriamo bene e i risultati arrivano. Io penso che sia la cosa più importante per tutti. È inutile nascondersi quando ti dicono ma i risultati non li snobbiamo, la realtà è che tutti ci tengono a far bello. Comunque è un felice secondo giorno di Pasqua per la Camignone. Sì, molto, a dire la verità, siamo venuti per divertirci, ce l'abbiamo fatta, adesso andiamo a festeggiare la pesquetta, abbiamo la società organizzativa che aveva dato le uova e mangeremo le uova. Tra i presenti non potevano certo mancare le autorità di calcinato che con lo staff organizzatore ai nostri microfoni hanno concluso la giornata di ciclismo con apprezzamento, dando l'appuntamento alla prossima edizione. Signora Nicoletta Maestri, primo cittadino di calcinato, abbiamo invaso la sua bellissima cittadina. Siamo molto contenti di questa invasione, veramente, perché avete dato un valore aggiunto a questa Pasquetta insolita. È bello perché tanti giovani, tanti organizzatori, i nostri calcinatesi che hanno organizzato divinamente questa gara, è bello vedere ancora una volta lo sport e tutte le fatiche che ci sono amnesse, che hanno un momento di premiazione e di lustro anche per la nostra cittadina. Quindi sono molto contenta anche per il memoria al nostro Fiorenzo, davvero. È sempre piacevole vedere gli amministratori comunali stare vicino a queste manifestazioni. Sì, è importante, è uno dei ruoli fondamentali. Lo dico sempre, lo sport e la cultura sono stati la risposta vincente anche a questa ripresa dopo momenti di pandemia e quindi vedere tanti giovani che ancora vogliono dare la loro rappresentanza nello sport, nella fatica. Ricordiamoci sempre che dietro ci sono tanti organizzatori, tanti allenatori e soprattutto le famiglie che tengono alto questo valore che è lo sport. Al prossimo appuntamento! Volentieri, vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Parlerò con gli organizzatori e speriamo davvero che ci sia una seconda edizione nel nostro territorio. Carlo, Carlo Maffezone, uno sportivo, un corridore e adesso anche in veste di organizzatore. Veramente complimenti! Grazie, grazie. Niente, la cosa è riuscita bene. Devo ringraziare gli sponsor soprattutto perché senza di loro non si combina niente. Poi tutti i volontari. Niente, è andato tutto bene. Cosa devo dire? All'anno prossimo, alla prossima. Ecco, l'anno prossimo. Ciao, Marcello Bregoli, presidente della Feralpi Group che sentiva tanto la nostalgia per organizzare una manifestazione in memoria di un tuo caro amico Fiorenzo Montanari. È già un paio di anni che con Maffezone volevamo fare qualcosa calcinato perché con il Covid di gare in giro ci sono poche sempre di qua e di là. Quest'anno abbiamo deciso di prima di Natale, ci muoviamo. Abbiamo fatto tre mesi pieni, avrò perso dieci anni della mia vita perché io la prima volta che ho organizzato, perché Monticari faceva tutto Piero e io facevo il portabandiere, capito? Qua parlare col comune, parlare con qualcuno, parlare con un altro. Fortuna ho avuto degli aiuti, un po' dalla Cristina, un po' di tutti. Benuora che mi ha dato una mano con le fotocopie, un po' con tutto. Insomma, siamo riusciti a... Penso una gara riuscitissima bene, corridori forti. Una bella selezione, basta, il percorso è perfetto. Se l'anno prossimo, se sono stati contenti, se l'anno prossimo riusciamo a qualcosa di più, faremo anche gli giorni di ente così stiamo in ballo tutta la giornata. Ha accettato l'appuntamento! Ringrazio ancora gli sponsor, perché senza sponsor non si fa niente. Leggiamo ora la classifica finale partendo dal decimo classificato, Saccani Federico della Scuola Ciclismo Mincio Chiese. Nono, Mangili Mattia della Cene. Ottavo, Franceschini Giulio della Roncomaurigi degli Ogallina. Settima posizione per Moro Marco Maria della Romanese. Sesto, Ferrari Sergio della Scuola Ciclismo Mincio Chiese. Quinto, Turconi Matteo della Bustese Olonia. Quarta posizione per Bertoncelli Kevin della Madignanese Ciclismo. Terzo, Baruzzi Federico dell'aspiratorio Telli Carimba Iocchi. Secondo, Cornali Christian del pedale brembillese e vincitore Loda Marco della Camignone.